wow è bellissimo ma cosa un ristorante cinese stanno meditando che persone pacifiche già toto ok la lana non un po di rispetto no restate pure seduti vi ho riportato uno dei vostri è un bel tipo carino forte salve come va lei è il capo monaco scusi credo che si calme ho capito e perché parliamo non parlare maledizione no basta non sto parlando basta col bastone ho capito non parla non parla sto zitto sto zitto non parla e ok e non parlare per carità stanotte a tarda ora avete scavalcato le mura del monastero urlando domande sull'amore sul matrimonio e sul senso della vita il povero fratello han stava meditando da solo nel giardino e voi l'avete rapito o mio dio abbiamo anche rapito un monaco viviamo in modo alternativo ci dispiace molto di tutto questo ma non eravamo in noi questa notte sì le cose ci sono sfuggite un po di mano ma c'è un ragazzo che è scomparso ed è ferito non si può sapere se lui sa dov'è fratello han ha fatto voto silenzio molti anni fa ogni tentativo sarebbe inutile ma magari ci potrebbe scrivere quello che è successo su un foglio di carta sarebbe come barare film è così gran capo ho paura che panzone abbia ragione visto che nessuno di noi saprà mai ciò che fratello han sa ok salutate i santi monaci banda di coglioni pelati dai andiamo e vi voglio dare un consiglio mettete qualche cartello con su scritto non parlare prima di slegare il drago c'è andato un po pesante e non c'è di che per avervelo riportato sarei salvo era in cena per schiamazzi il muto però siamo stati noi a rapirlo prima dai ragazzi andiamo fermi il buddha insegna ogni ricordo resta vivo nella profondità di noi stessi forse dovreste portare le domande al giardino della meditazione che ha detto hai capito qualcosa due parole su tre ha nominato un giardino della meditazione no ha detto che scorreggia per via della medicazione non è vero è tempo sprecato io non mi ricordo niente e tu no niente di niente alan ogni ricordo resta vivo nella profondità di noi stessi tesoro che c'è ci sono visite ciao alan ciao ragazzi ciao ciao bella stu vorrebbe invitarti al suo matrimonio stai facendo sul sello stu si perché no ci divertiamo allora che sto salute salute ciao 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 AMO B, 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 AMO B So dove andare